Già giocando sempre qua era sempre un grandissimo orgoglio entrare in questo stadio. Diciamo da bambino è un sogno poter già giocare qua, ma essere in questa squadra, far parte di questo club è qualcosa di straordinario. Sono molto grato, so da dove ho iniziato e dove sono arrivato adesso. Nella mia carriera, nella vita in generale, mi sono mai accontentato. Quindi oggi sì, sono il club più grande del mondo e per me è un grandissimo orgoglio.